Ciao a tutti! Mi avete riconosciuto? Ma come no! Sono il Sergente Maggiore Hartman! Ragazzi faccio questo video perché ho bisogno del vostro aiuto per un progetto ambizioso. Voglio portare il Sergente Maggiore Hartman in giro per l'Italia. Quindi datemi una mano! Nei commenti qui sotto scrivete dove volete che il Sergente si presenti oppure votate i commenti che vi sono piaciuti di più. Per fare questo ovviamente io ho bisogno di fondi e se conoscete persone che sono interessate al progetto e che mi vogliono fare da sponsor aiutatemi a mettermi in contatto con loro. Ma soprattutto ricordatevi di condividere i video di Hartman, di iscrivervi al mio canale YouTube Gravida Production e di iscrivervi alla pagina Facebook Gravida Production pagina sulla quale poi resteremo in contatto sulla evoluzione di questo progetto. Bene, grazie a tutti e a presto! Grazie a tutti!